Abitare la Casa Comune è il progetto triennale di formazione alla custodia del creato messo a punto dal Centro di Etica Ambientale della Diocesi di Como e Sondrio e presentato ieri in arcipretura nel capoluogo. A declinare il significato Obiettivi del Centro, che raccoglie al suo interno filoni di pensiero diversi, accomunati però dalla volontà di favorire la riflessione e il dialogo sul rispetto dell'ambiente, è stato Don Giuseppe Corti, suo presidente. Si tratta di un'associazione che ha come scopo di leggere il creato in termini di valori e non solo in termini di struttura, come in genere viene considerato. Cioè possiamo dire dare una lettura umana a quello che noi consideriamo invece solo una struttura praticamente chimico-fisica e creando un'associazione in modo tale che si potesse aggregare anche altri soggetti, non necessariamente ecclesiari, per cui poter fare questo discorso anche molto più ampio e interagente con le varie culture, con le varie esperienze, con le varie sensibilità. Dopodiché l'attenzione si è spostata sul ciclo di cinque incontri calendarizzati per il 27-28 settembre, il 16-17 ottobre, il 14-15 novembre e il 6-7 dicembre e il 17-18 gennaio del prossimo anno. Conferenze strutturate su un modulo che prevede un primo passaggio con gli studenti e le scuole superiori che aderiranno al progetto in tarda mattinata, seguito da un incontro analogo per i docenti nel primo pomeriggio e da una conferenza pubblica alle 17.30. Ospiti del centro affermati sociologi e professori universitari del calibro di Marco De Rio, Paolo Cacciari, Carlo Modonesi, Serge Latouche, Mario Bonaiuti e Stefano Bocchi. Affronteranno temi di grande impegno come la politica, l'economia, la società, la scienza del futuro. Le faccio un esempio. Usiamo l'automobile. L'automobile è uno strumento di comunicazione, un veicolo, ma produce inquinamento, malattie, altera la biosfera. E qui, nella nostra provincia, abbiamo un grande transito di automobili. Ogni anno due milioni di persone arrivano e vanno in questo territorio. Avere uno strumento di comunicazione, un veicolo di questo tipo, è già un deterrente biologicamente non compatibile. L'auspicio è che cresca sempre più la sensibilità degli studenti e della cittadinanza verso questi temi, tenuto conto che lo scorso anno, ad aderire a ciascuna proposta, erano stati 150 studenti.